Quando si va in campo bisogna fare e non basta più, potrebbe fare o magari farà, in campo bisogna fare. Quando poi si giocano queste partite, chi c'è c'è e chi non c'è non si vede. Suarez fa il furbo e la FIFA glielo permette perché hanno bisogno di far giocare i campioni. Ripartire dagli uomini, da uomini, giocatori, uomini veri, non da figurini o personaggi o quant'altro. Per quanto riguarda Mario Balotelli rientra proprio nel progetto tecnico. Io ho scelto e io mi dimetto che non è stato un progetto tecnico vincente. Aversigno le mie dimissioni perché quando un progetto tecnico fallisce è giusto che ci si prenda la responsabilità. Io andrò al Consiglio federale con le mie dimissioni irrevocabili. Grazie. 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 Grazie.